E' la mamma di Giovanni Padovani che un anno fa uccise la sua fidanzata Alessandra Matteuzzi a intervenire a pomeriggio 5. Mio figlio era molto fragile ma mai avrei potuto pensare ad un epilogo del genere. Queste le parole della madre di Giovanni che intervistata da Mirta Merlino cerca in un certo senso di giustificare il figlio. Mio figlio non stava bene era malato dice mentre invitava la vittima a calmarlo e tranquillizzarlo in quanto la donna fosse più grande del figlio. Lui la faceva pedinare da un investigatore privato era ossessionato da questa donna. Nel frattempo Alessandra scambiava dei messaggi con la madre del suo killer. dicendo di avere paura di morire. E così per la prima volta in tv vengono mostrati gli screen di questi messaggi dove Alessandra diceva che il ragazzo fosse fuori di testa mentre la madre cercava di salvaguardare il figlio. Poi come sappiamo il terribile epilogo che quel giorno costò la vita ad Alessandra. Così. La mia vita mi pagina. Come sappiamo il terribile epilogo che arrivano. Così. Così. ...